Buongiorno, vorrei ringraziare tutti quelli che hanno aderito alla nostra iniziativa Una Mano alle Imprese Lecce. In pochi giorni molti negozianti hanno postato le loro offerte e hanno iniziato a vendere i primi voucher. È partita la stessa iniziativa su Roma e ci hanno contattato altre persone anche di altre città, quindi speriamo bene e speriamo che l'iniziativa possa veramente diventare virale. Un saluto! Grazie